all marore febbra non è un modo di fare non è mai non è un anno non è un anno non è un anno non non l'uvi sardana e Cleo ecco bravo bravissimo immagini un Bürgussi un termine un po' un dimanio un signerino disdi inseriti il ingresenta unCC un signerino via la macchina alla macchina via la macchina si no lo che chi i miei amici attraverso le cose che ti chiedono e io non c'è mai l'acqua 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 i sticchi è che la quarte 120 minuti sono i fatti i fatti i fatti i fatti i fatti e il e ma 30 minuti e ora ma la 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 Valea Cleo, come qua l'arma? Si chiama il persone ti amano? No, hai maio, non ho maio... No, hai maio, non ho che per le loro da capire che poteva meravola? No, hai maio, come? Sai, hai maio, come c'è? Ora è un plio, tu sei che poteva l'armi con l'armi? No c'è un plio, hai maio, tu so che mi tu plio? No, ti sei? No ti sei da? Oh, sì, no ti sei da? Oh, ok, dai! Sì, 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 sì. No i lo chiamo. No i lo chiamati, non i lo chiamati. Non ci sarebbe Gabbana, non ci sarebbe Gabbana... Isso è la Barta, è la C. Si ce se è Gabbana, se ce si chiudesse Gabbana... Si entro a chi si gazzò il C. E questo è il Gabbana... No! No! Non si vuole! Oh! No! Oh! 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 Eh! Che cosa? Oh! 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 as ho trovato non e proprio e non 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 ma ma non 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 Qui says no toarlo? Androga Penso vera Penso vera Ipanso vera Io, di sangra l'adrogato. Ai, per sangra l'adrogato. Qua' io, vieni con la formazione. Che l'amora? Tirà il mai! L'a dire il mai! Si tui me cheoe gacera! Si è colato il sole All'im siamo lì! All'im ma il calcio! Ci sono le materie! Immagini usate, ma il calcio! All'immo! un'amore, un'amore, un'amore.